Negli ultimi dieci anni in Italia le imprese attive guidate da titolari nati all'estero sono aumentate del 29,5%, oltre 133.000 in più, mentre quelle con a capo un italiano sono 222.000 in meno, scese del 4,7%. I dati sono della CGA di Mestre, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, a incidere il trend demografico e l'aumento di tasse, burocrazia, bollette e affitti che ha scoraggiato gli italiani. In particolare sono diversi bazar, banchi dei mercati rionali, negozi di alimentari a conduzione straniera. Molti degli stranieri sono impiegati anche in edilizia. Su 105 province monitorate, solo in sette, gli imprenditori italiani sono cresciuti più degli stranieri e sono tutte del sud, in Sicilia, Calabria e Sardegna. Il commercio e l'edilizia sono i due settori economici dove si trova il maggior numero di titolari di attività nati fuori dall'Italia. Segue quello dell'alloggio ristorazione. Gli imprenditori stranieri maggiormente presenti in Italia sono i rumeni, seguiti dai cinesi, marocchini e albanesi. Se consideriamo le singole province, negli ultimi dieci anni, in attesa dei dati che riguardano il 2024, in Molise questa la situazione. 149 in più le imprese guidate da stranieri, più 8,7%, a fronte di 2449 aziende in meno con italiani a capo. In generale un saldo negativo importante. Numeri più contenuti in provincia di Sernia, con 93 imprese straniere in più, più 14,4% e 388 italiani in meno. Comunque al di sotto della media nazionale che si attesta al 27,3%. Quando uno straniero apre un'impresa dimostra di aver attivato un percorso di inclusione importante, perché è stato costretto a rapportarsi con gli enti locali, eventualmente con un istituto di credito a cui ha chiesto un prestito. Periodicamente incontra il suo commercialista e una volta iniziata l'attività si interfaccia con i propri fornitori. Insomma queste persone diventano parte integrante del nostro sistema economico. Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia. Non sarebbero poche le aziende guidate dai migrati che vengono aperte per coprire operazioni di evasione e commercializzazione su larga scala di merce contraffatta, creando problemi anche di concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane dello stesso settore. Fenomeni distorsivi che le forze dell'ordine devono continuare a monitorare con grande attenzione.